Qualche volta capita di sentire, ma i mercati azionari non tendono sempre a salire? Beh, in realtà non proprio. E oggi parleremo di quelli americani, perché dovete sapere che, nel caso aveste investito in questi ultimi sei mesi, oggi vi ritrovereste con un guadagno pari a zero, o meglio dire in perdita. Guardate infatti questo grafico. In poche parole sono stati completamente azzerati i guadagni di questi ultimi mesi dell'SP500, ma come mai? Beh, cercheremo di capirlo in questo video, insieme ad un breve recap delle ultime trimestrali e un'analisi delle ultime notizie provenienti dalla Cina, dove, ancora una volta, il settore immobiliare ha subito un duro crollo. Partiamo adesso proprio dalle trimestrali, visto che hanno portato parecchia volatilità sui mercati e ci possono anche essere utili per inquadrare meglio l'andamento dell'indice. Siamo già a metà della stagione delle trimestrali e, nonostante manchino ancora i risultati di player importanti come Paypal, che è a meno 83% ai massimi, e Apple, possiamo iniziare a trarre le prime conclusioni. Venerdì abbiamo analizzato nel dettaglio poi anche gli ultimi risultati di Meta, in diretta, e se ve la siete persa vi consigliamo di recuperarla, visto che c'era anche un ospite speciale che ci ha aiutato a parlare di quale sia oggi lo scenario di mercato per Meta. Adesso invece vedremo un pochino più dall'alto la stagione delle trimestrali, partendo da un'analisi di Faxet. Dovete infatti sapere che il 50% delle società circa facente parte dell'SP500 ha già pubblicato i documenti relativi ai risultati degli ultimi tre mesi, e di queste ben il 78% ha riportato un utile per azione superiore alle aspettative, che è un dato ben al di sopra della media degli ultimi dieci anni. Ciò che poi stupisce è che gli utili non solo sono stati leggermente superiori alle attese, ma in alcuni casi anche maggiori del 10% o più, come nel caso di Amazon, che le ha quasi addirittura raddoppiate. Come detto poi poco fa, non tutte le società dell'indice hanno riportato gli utili, ma gli analisti stimano che facendo una media tra quelle che hanno già pubblicato i risultati e quelle che lo faranno nei prossimi giorni, la crescita degli utili dovrebbe essere del 2.7%. Se poi così fosse, sarebbe il primo trimestre in cui gli utili vedono una crescita dall'ultimo anno a questa parte. Se poi volessimo fotografare la situazione, al momento sono 8 su 11 settori del principale indice azionale americano a vedere i propri utili aumentare su base annua. Gli unici che sono andati peggio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso sono il settore medicale, quello energetico e infine quello dei materiali. Sebbene poi vengano considerati spesso come meno importanti rispetto agli utili, anche i ricavi della maggior parte di questi settori sono aumentati su base annua. Un qualcosa che forse era più facile da prevedere, soprattutto anche alla luce dell'inflazione. Ciò che invece non è piaciuto molto delle ultime trimestrali ai mercati è anche forse la guidance. Infatti molte società non hanno dato i segni di ottimismo che i mercati si aspettavano e questo ha contribuito ad abbassare gli entusiasmi per l'ultimo trimestre dell'anno in arrivo, cosa insolita visto che solitamente è caratterizzato da quello che è definito da molti il rally di Natale, dove tra novembre, dicembre e gennaio i mercati tendono a salire per un aumento dei consumi e delle spese spesso dovute alle festività. Ecco, se nelle scorse trimestrali si prevedeva un aumento degli utili dell'SP500 dell'8%, ora questo valore è stato ridimensionato e si stima un aumento solo per modo di dire del 5%. Nel mentre poi sono anche usciti altri dati positivi sull'economia statunitense e il primo fra tutti è il PIL che su base annua nel terzo trimestre, come potete vedere, è aumentato quasi del 5%, praticamente un tasso di crescita tipico attribuibile ad un paese in via di sviluppo, sostenuto soprattutto dai forti consumi nonostante i tassi di interesse rimangano ancora oltre il 5%. Se volessimo poi vedere a chi va al merito di questi aumenti, beh, la spesa dei consumatori è la responsabile di oltre metà di questo risultato, aumentando di fatto del 4% su base trimestrale, è responsabile di 2.7 punti percentuali dell'aumento del prodotto interno lordo. So ragazzi che sono tanti i numeri, ma quando facciamo un video ci piace cercare di mettere i puntini sulle i per capire un pochino quelli che sono tutti i principali dati. Tornando a noi, nonostante i buoni dati macroeconomici, il mercato del lavoro ancora forte, le trimestrali oltre le aspettative, il dollaro americano che pare non abbia deluso, i mercati sono rimasti in qualche modo deboli negli ultimi mesi, perché se vediamo la performance dell'SP500, anche solo degli ultimi 5 giorni, è del meno 2.2% e come abbiamo visto negli ultimi 6 mesi ha completamente in sostanza zerato tutti i guadagni. Da buoni ingegneri ci siamo poi anche interrogati sul perché di questo risultato e sulla piattaforma My Finance Club dei nostri amici Parliamo di Investimenti, abbiamo trovato degli spunti interessanti che ci hanno permesso di arricchire questo video con diversi contenuti. Loro ad esempio hanno individuato diversi aspetti che potrebbero aver influenzato i mercati e come anticipato in uno degli ultimi video, due importanti investitori, Bill Hackman e Bill Gross, hanno recentemente interrotto le loro scommesse ribassiste sui titoli di Stato statunitensi, principalmente a causa dei sempre maggiori rischi macroeconomici. A questo poi si aggiunge anche un'altra figura di spicco del settore e ci stiamo riferendo a Jamie Dimon, il CEO di JP Morgan, una delle principali banche del paese e che nell'ultima trimestrale non ha usato mezzi termini per dire che secondo lui i tempi recenti sono tra i più pericolosi che il mondo abbia vissuto da qualche decennio a questa parte, alludendo ovviamente alle tensioni geopolitiche in Est Europa, Medio Oriente e l'escalation delle tensioni Stati Uniti e Cina. A tutto questo poi si aggiungono anche altri elementi come ad esempio il timore che la liquidità del mercato stia venendo meno, i rendimenti delle obbligazioni statunitense a dieci anni che oggi pagano il 4-8% e anche i rendimenti di quella due anni che sono oltre del 5%. E in sostanza come sapete più le obbligazioni offrono dei rendimenti appealing e più in qualche modo è scoraggiato il mercato azionario perché di fatto deve essere in grado di offrire dei ritorni più interessanti perché gli investitori lo prendano in considerazione. Come detto poco fa poi buona parte di questi spunti li abbiamo presi da My Finance Club, un portale economico dove vengono pubblicati articoli e analisi sia macro che su singoli titoli e spesso entrano anche molto nel dettaglio. Di fatto noi lo affianchiamo spesso alle classiche testate giornalistiche economiche e il grosso valore aggiunto secondo noi è la possibilità di potersi confrontare con ex analisti di grandi banche che si portano dietro anni e anni di esperienza sul campo e con i quali è possibile discutere di temi finanziari e sentire anche i loro outlook. Per chi fosse poi interessato vi lasciamo in descrizione il link dedicato alla community di ingegneri in borsa con il quale avrete 7 giorni prova gratuita e uno sconto del 15% su tutti i piani e sentite bene per sempre, quindi ad esempio non solo sul primo anno di abbonamento ma anche sui successivi. Adesso torniamo a noi. Questa settimana verranno pubblicati diversi dati riguardanti l'economia statunitense e che ci permetteranno sicuramente di capire meglio la direzione in cui stiamo andando e probabilmente anche vedremo come reagiranno i mercati. Nel mentre però neanche la Cina se la sta passando bene. Guardate quest'altro grafico. Le azioni del colosso immobiliare Evergrande sono scise in un ulteriore 20% raggiungendo il livello minimo di 18 centesimi di dollaro di Hong Kong per poi riprendersi leggermente oggi e arrivare a 21 centesimi. Ma a cosa è dovuto questo ulteriore crollo? In sostanza cercando di riassumerla nella maniera più semplice possibile è stata ritardata un'udienza per affrontare una petizione di liquidazione dal 30 ottobre al 4 dicembre da parte di un giudice di Hong Kong e questa è al centro dell'attenzione di media perché dovrebbe trattarsi dell'ultima prima che venga emesso un verdetto sull'ordine di liquidazione della società. E se in poche parole Evergrande non riuscirà a presentare un piano di ristrutturazione adeguato prima del 4 dicembre è quasi certo che la società verrà messa a punto in liquidazione. E questo nuovo sviluppo è in sostanza l'ultimo duro colpo per la società che una volta era il più grande sviluppatore del settore privato cinese per volume di vendita. Nei prossimi giorni quindi vedremo come proseguirà la faccenda anche se ormai è molto difficile pensare che possa ritornare ad essere il colosso che era prima. Vista poi l'importanza che ha la Cina nel commercio globale non dobbiamo vedere questa notizia come isolata ma serve sempre contestualizzarla e pensare agli impatti che potrebbe avere sui mercati esteri. Di fatto ad esempio il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente tagliato le sue previsioni di crescita globale per il 2024 e ha detto che il rallentamento del settore immobiliare cinese è una delle principali cause. Non scordatevi anche la ripresa economica post pandemia della Cina che ad oggi è stata secondo molti più debole del previsto, la disoccupazione giovanile che a livelli record, le previsioni del prodotto interno lordo che sono state abbassate e la crisi immobiliare in corso che ha colpito la fiducia dei consumatori e anche particolarmente gli investimenti esteri nel paese. Ecco quindi che ricollegandoci alle notizie riguardanti gli Stati Uniti viste prima da un lato vediamo come non siano messi poi così male rispetto ad altre superpotenze e dall'altro la situazione soprattutto nei prossimi mesi potrebbe non essere così florida. Infine indipendentemente da tutto quello che sta capitando vogliamo portarvi un ragionamento che è forse anche scollegato da tutti questi eventi che circondano i mercati. Ossia che in sostanza quello che è successo negli ultimi sei mesi ma anche volendo negli ultimi cinque giorni non per forza è un qualcosa di strano perché forse e soprattutto negli ultimi anni siamo stati abituati a vedere dei mercati in continua crescita e quindi fa forse strano vedere delle performance negative a volte. Ecco non dovete dimenticarvi che spesso anche delle discese del mercato possono far parte di un ciclo economico e non sempre a parere nostro bisogna cercare di giustificare quello che i mercati fanno con ciò che accade effettivamente nell'economia anche soprattutto perché se si potessero prevedere i mercati nel breve con successo e soprattutto con costanza saremo probabilmente tutti miliardari. Detto questo speriamo che il video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e ovviamente date un'occhiata al piattaforma dei nostri amici di parliamo di investimenti my finance club che noi stessi utilizziamo spesso per informarci sul mercato. Noi ragazzi ci vediamo alla prossima ciao a tutti